buongiorno allora io non so se anche dalle vostre parti funziona così non so guardate che tempo del cacchio tempo del pentu come diceva mio nonno ma non è finita qui perché guardate cosa combina questo bel tempo che a parte che ci sono ci sarà tipo l'80 90 per cento di umidità minima poi brutto e poi non solo cioè lo vedete guarda la macchina piove terra lo vedete guarda questa ha piovuto terra non vi dico in casa cosa ha combinato perché poi tu cammini per terra tutto sporco di terra entra in casa ti devi subito togliere le scarpe perché altrimenti c'è il tappeto della cucina che è già diventato con le chiazze marroni le pedate uno schifo uno schifo giusto che avevo lavato i pavimenti due giorni fa due giorni fa ha deciso di piovere cioè non piove mai per la voi pavimenti piove terra neanche acqua terra oltre alle varie cose strane che fanno e lasciamo perdere qui così ma poi tra l'altro non so neanche se sia normale questa cosa perché se piove terra piove terra pure nel mare quindi praticamente il mare si sporca di terra non so se sia normale una roba del genere non so da dove arriva forse dall'africa ma dico ma ne avete così tanta che c'è non lo so non questa qua è terra rossa c'è non sono non capisco non capisco neanche da dove sia arrivata sta cosa rossa credo sia roba del deserto sta roba credo sia roba del deserto sta roba perché insomma guarda è marrone cioè non c'è filtri e la ora che schifo di bu non so se sia normale anche per il mare comunque adesso c'è troppo mediter me ne devo andare in casa che c'è il diumidificatore perché sono qua cioè sono sono di nuovo appiccicoso bagnato ci vediamo dopo guardate la terra come ha ridotto il tappetino allora adesso non rende tanto ma questo vedete la differenza di questa striscia qua è marrone scuro qua marrone chiaro di qua di uno scuro ecco lì perché mi sono pulito i piedi c'è questo questo è il risultato della terra della pioggia della liguria adesso eccolo qua qua se ne vede un altro qua lì la macchia lì e sono le ciabatte sporche qua è lì anche vada 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 lì c'è adesso probabilmente chiaro non si vede ma se fosse un po più scuro guarda ora lì allora la vedi con la macchia marrone in mezzo all'azzurro ecco questo è il risultato qui stasera c'è la cena aspetta che accendo la luce ecco con la pancetta la pancetta adesso mi ricordo quella le penne si penne con la pancia carbonara carbonara penne pancetta poi ci metterò sul parmigiano e via di cena poi nell'attesa guardate asterix asterix e obelix ecco asterix e obelix è vecchissimo sto cartone rimasto eh madonna volevo qualcosa di divertente eh e l'ho trovato asterix e obelix buongiorno allora sono andato al bar un attimo a prendere un caffè entra una signora che c'è ridere entra una signora tipo non lo so avrà avuto 70 anni una roba del genere entra lo bastone va per sedere la barista gli dice cosa prende signora e quella gli fa un caffè ristretto e l'altra gli risponde non ho capito che cosa prende un caffè ristretto lungo ma come fa esistere un caffè ristretto lungo cioè non esiste un caffè ristretto lungo fatte che quella barista di una simpatia una simpatia quella barista che proprio di te non lo so che ne so io proprio antipatica come la morte brutta come la no brutta no no non è brutta antipatica come la morte brutta nel senso brutta brutta antipatica ora andiamo qui da piume non so se dalle vostre parti c'è vedere delle robe ecco allora aspetta che accendo il flash qua ok si vuole che prima sono andato da piume ve l'ho detto prima e ho preso questo della cleaners intense a lifting rughe siero concentrato acido ialuronico allora diciamo che era così perché era tipo non so un mese comprovo più niente perché quelle belle quelle belle non che questo fa schifo ecco però quelle belle ce le ho già ecco stavo dicendo prima che mi interrompevano che quelle belle non che questo è brutto ce le ho solo che ogni tanto sapete che bisogna un po cambiare no è meglio cambiare no ecco allora ho preso questo qua io l'ho già aperto per sennò con una mano sola non riuscivo e e alla fine della menata è un siero si si ero concentrato si ero concentrato 330 mg vuol dire che vuol dire che qua va bene per 40 50 60 vuol dire che sono 330 gran 33 30 ml eccolo qua 30 ml adesso non lo apro che sono poi dopo devo usarlo subito poi la signorina che vi ho detto che quando simpatica simpaticissima signorina quando ho pagato gli ho detto quando scadono i punti e quella mi ha detto ah sì tra l'altro l'ho pagato 9 99 10 euro vabbè e mi ha detto quando scadono i punti ah non scadono mai ah vuole questo vuole questo come vuole questo dai a cani a porci se non te lo chiedevo io non me lo davi qua va bene comunque ogni 5 euro ti da ogni 5 euro ti danno un bollino qua per un centesimo non tanto da guarda guarda come sono furbacchioni no vabbè ogni 5 di spese un prodotto o un prodotto sponsor ricevi un bollino in pratica puoi prendere borsone da viaggio a più 15 euro tre bollini a 8 euro col più oppure 8 euro alla fine lo compro nuovo due bollini tag per 4 euro c'è ma sto tre bollini 9 euro un ombrello ma dai ecco la 60 euro una bolla immaginavo 50 euro e 40 euro 6 bollini 15 euro ma alla fine sono i prezzi normali di vendita che trovi in giro cioè alla fine un borsone così 15 euro una pochette beauty da donna 9 euro beauty ma è un ombrello quello costa 9 euro forse la valigia può forse ma forse anche sono il dubbio e lo zaino pure 15 euro alla fine boh cioè non so a me se raccolto i punti ultimamente non è che mi convincono non è che mi convincono più e scusa devo mi da il bollino pago aspetta non ho capito se aperta la porta il vento vabbè non so non è che mi convincono molto più una volta raccoglievi i bollini vi ricordate quelli del mulino bianco poi vi mandavano il regalo a casa ma adesso raccogli i bollini fai tutto sta menata e poi devi pagare 15 euro non lo so non boh boh vabbè allora chiudo il video con questo con questa riflessione vedete questi fiori qua questi questi qua questi è un pochino meno vabbè qua stanno lì c'è uno che sta per fiorire però questi qua sono bellissimi mi piacciono tanto però non mi ricordo come si chiamano mi pare che si chiamano le margherite egiziane africane c'entra qualcosa con l'africano se non ricordo male ma non mi ricordo bene però sono bellissimi anzi io vi ringrazio vi saluto ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare anche la campanellina e e così sarete sempre aggiornati ciao 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 Sì, sì.